Oggi analizziamo uno strumento di Gen AI specializzato nella creazione di immagini contenenti un testo al loro interno, cosa non banale per un'intelligenza artificiale. Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa Text to Image fanno molta fatica a riprodurre un elemento testuale all'interno di un'immagine, ma da qualche giorno è arrivato sul mercato Ideogram, un nuovo tool gratuito che promette di fare miracoli. Ideogram nasce sotto i migliori ospici, è stata fondata da ex ingegneri di Google Brain che hanno lavorato ai modelli di intelligenza artificiale del gigante di Mountain View. Inoltre ha appena ricevuto un primo round di finanziamenti per 16,5 milioni di dollari da importanti venture capitalist. Per utilizzarlo basta andare su ideogram.ai e registrarsi con il proprio account di Google, dopodiché fare il login. Il sito è molto semplice, fondamentalmente diviso in due grandi sezioni. La prima in alto, quella che serve ad inserire i prompt e a vedere i risultati ottenuti, e poi quella in basso che contiene una galleria delle immagini più recenti o di tendenza, oppure delle persone che desideriamo iniziare a seguire, o ancora le immagini top, quelle che hanno ottenuto più like dalla community. Quindi si presenta come un servizio che in parte serve alla generazione di immagini, ma in altra parte potrebbe diventare una sorta di social delle immagini generate dagli utenti. Iniziamo a metterlo alla prova con un primo prompt. Per esempio, neon sign on a mountain top hot. Quindi proviamo a fargli generare una immagine fotografica magari, perché possiamo anche dirgli che tipo di immagini vogliamo, senza scriverlo nel prompt, ma utilizzando queste etichette. Quindi potrei scrivere cinematic, potrei scrivere foto e potrei anche dargli un formato di immagine che mi piacerebbe vedere. Per esempio 10 sedicesimi, in modo da avere l'immagine in verticale. Vediamo cosa riesce a generare ideogram. Ecco le quattro immagini generate. Tutte e quattro contengono un elemento montano e l'elemento dell'insegna con la scritta hot, anche se per esempio in questo caso la scritta non è corretta. Qui è accennata, qui è giusta ed è tenuta da una mano sullo stile un po' delle fotografie di Instagram. Per ogni foto io posso ovviamente scaricarle e quindi ingrandirle e scaricarle semplicemente con il tasto destro posso anche fare dei remix delle foto. Quindi se mi piace questa foto potrei anche decidere di utilizzare un altro tipo di elemento, un altro tipo di stile, per esempio poster o per esempio proviamo dark fantasy e vedere cosa genera il sistema. Beh in questo caso non si è discostato molto con il tema precedente, però abbiamo in tutte e quattro le foto, le immagini che abbiamo richiesto, gli elementi che abbiamo richiesto, anche con uno stile interessante che probabilmente si riferisce al contenuto dark fantasy che gli abbiamo chiesto. Ora spingiamoci oltre e proviamo con qualcosa di più difficile. Proviamo a chiedere l'immagine di un gatto con un cartello con la scritta in italiano ciao core. In questo caso proviamo a scegliere foto come stile, proviamo anche a mettere un typography per dare l'idea che deve produrre una scritta ben precisa e proviamo a mettere un rapporto di larghezza altezza uno a uno, quindi un'immagine quadrata. Vediamo cosa riesce a generare. Ecco qui i risultati, il primo gatto è sicuramente azzeccato, ciao core, la scritta è perfetta, qui invece c'è solo ciao, qui c'è ancora ciao core con un altro stile e anche qui ciao core. Quindi direi che è riuscito questo esperimento di creazione di una sorta di meme con delle scritte in italiano. Ora mettiamolo alla prova con un testo in italiano però più lungo, vediamo come se la cava. Proviamo solamente a scrivere Italian text aperti giovedì pomeriggio typography, magari lo mettiamo con una versione in versione verticale. Ecco i risultati e come vedete non ci siamo. Le immagini sono anche carine ma il testo è completamente sbagliato in tutti e tre i casi. Addirittura nell'ultimo caso il sistema pensa che ci sia qualcosa di non safe. Proviamo a farglielo rigenerare di nuovo, magari provando a mettere poster e a vedere magari una illustrazione se riesce meglio. Proviamo a capire come se la cava. Qui ancora continua a sbagliare, vedete qualche parola è azzeccata, aperti giovedì, però pomeriggio è qualcosa che non riesce a scrivere. Quindi diciamo che la prova sull'italiano, sui testi lunghi, non è andata a buon fine. Vediamo invece come se la cava con i loghi, per esempio woman face, logo for beauty company, modern, minimal e qui mettiamo illustration e typography e magari mettiamo un elemento quadrato. Tutti e quattro i loghi mi sembrano interessanti, sono minimal, rappresentano una donna e possono essere effettivamente un buon logo per una azienda beauty. Questo è molto carino, anche questo non è male, questo è un po' più elaborato, quindi prova sicuramente riuscita. Infine mettiamolo alla prova con un lettering, quindi con un logo solo testuale. In questo caso voglio il logo Vincos, minimal, futuristic, geometric e li dico soltanto typography con un formato orizzontale. Ecco qui i risultati, il primo è sicuramente buono, il secondo no, c'è una U, il terzo neanche, il quarto sì assolutamente buono. Proviamo a chiedere un remix di questo quarto logo, per esempio 3D render, quindi lo modifichiamo un po'. Ed ecco le nostre renderizzazioni in 3D, questa è sicuramente buona anche se molto colorata, qui non c'è quasi nulla di 3D, qui sicuramente sì, e qui insomma solo qualche ombreggiatura. Comunque in generale abbastanza positiva anche questa prova, a questi risultati. In definitiva i diagram mi sembra uno strumento molto utile per queste esigenze specifiche di chi ha bisogno di generare dei testi brevi in un contesto grafico accattivante. Ovviamente ci sono dei problemi con l'italiano, li abbiamo rilevati, ma il sistema sicuramente migliorerà nei prossimi mesi, visto che ancora siamo in una versione beta. Ovviamente lo strumento può essere utilizzato anche per la generazione di immagini che non contengono necessariamente dei testi. Il sistema utilizza alla base il modello stable diffusion che sicuramente nei prossimi mesi si evolverà per arrivare a livelli di fotorealismo più elevati che ancora non ha. In attesa dei vostri commenti su Ideogram vi ricordo che il modo più semplice per rimanere aggiornato sui prossimi strumenti di intelligenza artificiale è quello di iscrivervi al canale. Alla prossima!